Durante la serata dei videogame awards, ovvero gli Oscar dei videogame, serata che si è tenuta a Los Angeles lo scorso 13 di dicembre, i Naughty Dog, noti per la serie Uncharted, hanno annunciato di essere al lavoro su un nuovo titolo. Si tratta di The Last of Us, un gioco d'azione, d'avventura e survival esclusivo PlayStation 3. Protagonisti un uomo ed una ragazzina, Joel e Ellie i loro nomi, presumibilmente padre e figlia, impegnati a sopravvivere combattendo contro dei mostri in un mondo sconvolto da qualche terribile epidemia. La trama si inserisce nel filone di film come Io sono Leggenda, The Road o serie come Walking Dead e a prima vista potrebbe sembrare il solito survival horror, ma gli sviluppatori assicurano che sarà molto più profondo dei titoli concorrenti. Il gameplay sarà focalizzato sia sui rapporti con le altre persone rimaste in vita e che incontreremo durante un viaggio lungo tutti gli Stati Uniti, sia sulla strategia da adottare per uccidere i mostri, probabile quindi la presenza di una modalità cooperativa offline o online sulla frassariga di quanto visto in Dead Island. L'impatto grafico è sicuramente spettacolare con effetti di luce sofisticati e modelli poligonali ricchi di dettagli, come ci dimostra il trailer che è composto, come ha dichiarato la stessa Naughty Dog, solo da materiale in-game. Il tasso di adrenalina sarà alto e le sequenze che vedete ne sono un esempio. I posti sicuri e protetti saranno pochi e quindi sarà importante prendere decisioni in tempi brevissimi. Ad esempio l'arma da adottare durante gli scontri e da quale lato colpire il nemico che stiamo affrontando in quel dato momento. La data di rilascio del gioco non è ancora stata ufficializzata ma le aspettative degli appassionati sono già alle stelle.